Perché dice che il Trentino è inerte? Non è il Trentino inerte, abbiamo un corpo forestale che probabilmente ha perso il controllo di tutto. Doveva seguire gli orsi, monitorare questi orsi, evitare che arrivassero troppo vicini ai centri obitati, evitare incidenti che purtroppo ci sono stati. Abbiamo evitato anche incidenti mortali per quasi puro caso. Il nostro Presidente 41 giorni fa ha emanato un provvedimento contingibile d'urgenze di cattura nei confronti di questo orso problematico J-K2. 41 giorni sono tantissimi. La forestale non ha ancora individuato questo orso. A questo punto non ha dato seguito a questo provvedimento. Noi dobbiamo dire che la forestale sa a questo punto quanti orsi abbiamo in Trentino. Se non sa dove sono probabilmente non sa neanche quanti possono essere. Poiché ci sono sempre più casi di aggressioni e di pericolosità effettiva, insomma qua almeno emergano delle responsabilità. Qua sembra che nessuno risponda a nessuno. Non è possibile, non è accettabile. A questo proposito lei per difendersi dagli orsi che cosa ha proposto? Adesso abbiamo poco da proporre. L'unica arma di difesa, poiché il cacciatore probabilmente ha altre armi e sa come difendersi, il cittadino o l'escursionista o chi lavora, fa attività da boscaiolo, non ha grandi strumenti. L'unico che esiste e che ha un po' di efficacia è uno spray al peperoncino. In vendita ci sono soltanto però quelli legali che sono più bombolette da 20 milligrammi. 20 milligrammi vuol dire avere una gittata di due metri o poco più. Non possiamo usare uno strumento così sofisticato ma anche così inefficace per un orso. Non possiamo lasciare che un orso ti arrivi a un metro perché ormai è finita. Gli americani producono delle bombolette da 400 e da 500 milligrammi. C'è una bomboletta grande come una bottiglietta di Coca-Cola che però può sparare direttamente fino a 12 metri. Ecco, questa è l'unica cosa efficace però per la legge italiana questa non è commerciabile e sarebbe illegale. Il testo che ho presentato è per rendere legale almeno questo unico strumento che può dare un minimo di tutela e di difesa da questi plantigredi.